buongiorno a tutti e bentornati sul canale abbiamo avuto un nuovo video di fifa col monaco 1860 e dunque dopo le qualità non andate benissimo nell'altro episodio ci ritroviamo sempre decimi e praticamente dobbiamo vincere tutte abbiamo fatto il calcolo sono 11 qualità alla fine e abbiamo 33 punti a disposizione per arrivare almeno terzi dobbiamo vincere tutte senza guardare gli altri cosa fanno quindi andrei subito a giocare con la cold usbord la maglia proviamo così lascerei quelli che ci sono vediamo se a chinola si conferma bomber ovosu si deve ancora sbloccare collado cerca ancora la conferma via si parte no vabbè si parte così però no come è un calcio mondiale si già attaccano troppo oggi voglio continuare a provare Wilsh alzarlo sulla fascia e dare fiducia a winter dietro appia deve confermare no però sti errori eh bravo grelinger guarda lo guarda lo guarda lo guarda lo guarda lo ma a chi no la si trova in posizione buona ma vabbè perché lì no dai però un po' più di fisico a grelinger dobbiamo fargli il fisico dai wish però non ti puoi far saltare così eh guarda lo collado no oh anche c'è Weber da solo bravo collado bravo prova vabbè vabbè che collado si deve confermare dai bravo crowdinger, no, bravo, dai col lato, no, bravo, 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 sapevo io, vai crowdinger, si, partavo giù, 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 no, giù, deve andare, Bericogluc, a me è approcciuto nell'altra partita, ma in effetti oggi, un po', lo vedo un po' spento, mamma mia, bello, dai, oh, oh, su però, mamma mia, non ne tieni una, oh, donna, non ne tieni una, oh, boh, su, metti un po' di fisico, perché no, tutto pronto, comincia la seconda frazione, oh, poteva prenderla, dai però, oh, mamma mia, che rischio, ecco, l'asso è un problema aumento la velocità, donna, guappio, 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 bravo, non lì, ma non lì, porca miseria, oh, oh, ah, non lo so, dai, lex dentro, non sarà risolta di nuovo lui, ma porca miseria, porca, bravo, bravo, lex, bravo, lex, tira, ahi, ma uno che va, oh, in tre, bello, bello, era bello, era bello, prendila, bravo, si rimpolli, bravo, per trocare, broglu, qual gioco, abbiamo Dressler, Oh, fallo! Ah, porca miseria. Bravo, Weber. No, troppo corto. Bravo. Ah, porca miseria, porca. Oh. Mi mette io dritto, però, al passaggio. Oh. Bello, Lex. Vai, Lex. Ma, porca miseria. Bello, Lex. No, ho lì. No, ho sbagliato. Troppo debole. Non me l'aspettavo che gli arrivava. Guarda che cuore che hanno. Oh, è fallo! Ma, porca miseria. Vediamo l'ultimo minuto, vediamo se cambia qualcosa. Dai. Dai! No, non ci credo. Ma, no! Ma che iella ho! E la prima l'abbiamo già ciccata, eh. Dovevamo vincerle tutte. È già arrivato un pareggio. Non va bene così, non va bene. Vi volevo la promozione al primo anno, ma mi sa che... Eh, ragazzi, mi hanno dato tutto. Potete, è difficile, quali sono le... Eh, due ottime difese. Eh, puntiamo a vincere tutte. È quello che puntiamo a fare, ma qua... La vedo dura. Eertban cosa vuole? Mister, se non dici, mandarmi in campo più spesso la cos'è della... Eertban... Ehm... Vabbè. Ma che cominciano a chiedere, non va bene. Allora... Facciamo la difesa. Ok. Eh, c'è anche Lang che sta salendo. Quindi facciamo poi giocare una pochetta a Eertban. Per forza, se no... Eh, siamo sempre decimi. Ha tre punti sul Cimit Azzec, che ha già giocato e ha perso. Madonna, abbiamo il Klausel adesso. Eh, Newman vuole giocare. Ci penserò. Facciamo la conferenza stampa. Ehm... Turnover. Eh, Erdban deve giocare. Lotteremo fino alla fine. E... Come affrontare la possibilità, cambieremo qualcosa. Quindi, Erdman e Newman devono giocare. Per forza. No, aspetta. Posso anche mettere la nera. Allora, mettiamo... Eh, facciamo riposare... Erdman che... Che piede ho? Destro. Allora, Erdman. Il posto di Berzel. Newman, cosa può fare? Esterno-sinistro. Ok, perfetto. Al posto di APA. E darei una possibilità... Winter. e una a Mulders. E ci portiamo in panchina... Ehm... Kebart. Al posto di... No, Lex, no. Al posto di APA. E farei fare una partita... Dressler. Dal primo minuto. Collado, lo lascio un po'... Anche se questo è importante, ma... Vabbè. Spero di non pentirmene. Sarà che Ovosu... Deve per forza... Sbloccarsi. Se non faccio così... Non si sbloccherà mai. Piove. Porca miseria. Senza che sono sopra di noi. Oh. Madonna. Se veniva sto gol... Spegnevo tutto. Allora, vediamo Winter cosa sa fare. Bene. No. Donna. Il Kino va da solo. È da solo. È da solo. No. No. Ho già due partite che non segno, eh? Grande Weber! Bravo! Il solito schema... Oh, ok! Che cavolo! Oh! Chi è? Ah, Dressler! Dressler! Boh... Al posto di Collado... Hai spazio per andare... Dopposso vado da... grande web grande e falli non ce n'è qua non c'è mai nessuno centrale perchè non la mette laterale bello il lancio newman ca miserio no vabbè circa un contrasto tra loro bello no eh vabbè la passiamo giochiamo con loro tanto ma perchè lì? bello bello buca miseria winter bravo mamma mia ah ah è che c'è newman da solo bello bello bellissimo eeeh abitron c'è una spintarella bello 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 siiii ancora lui si conferma a Kinola adibala adibala mask il sogno è portare adibala al monaco magari tra qualche anno saremo in serie a con il cross con il cross slouter 2 a 0 un gol di Molder bello 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 uuuuh ripassava uuuuh mamma con che cattiveria uuuuh dai siiii bravo nooo bello ma Molder non ce la fa forica miserio oh ma porca miserio bello no vabbè ma c'è solo il copro donno grazie dai e che cazzo molder ecco il gioco no? oh vuoi fare il gioco donna non è che c'è winter oh ma i falli cazzo ma li fischia no ma l'abbiamo vinto un'ottima vittoria ci servirà per il morale intanto il mappe è napaleggiato io l'altro non me ne ricordo tutte comunque Ertman mi ha dato tutti i complimenti il Monaco è un club vincente il ragazzo è giocato bene eh meno male ah eh ma comincia Bowman oh che barba allora Sangu e Jinti vanno in forma nazionale vabbè intanto non giocavano Bericoglu adesso mi aspetto di più da te la ringrazio continua così ho bisogno di giocare più spesso ho bisogno di poter aprire il contro siamo sempre decimi ma ho a un punto dall'autor inter hacking ora ci mancano 9 partite il zio H è a 54 è la matematica bisogna guardare siamo a 8 punti giusto? si no 12 punti dalla terza e a 10 dalle quarte dobbiamo comunque vincere sempre tutte e sperare spero che qualche scontro detto l'abbiamo perso dunque al prossimo episodio giocheremo contro Wardsburg e Werdingen per poi andare al mese di aprile c'è la Rostock il Colony sono tutte facili in teoria tranne il Bayer qua sarebbe dovrebbe essere un po' di partite facili questa vabbè quindi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti e commentate se avete qualche modifica sulla formazione specialmente sulla formazione 2 anche così non mi piace ciao a tutti e al prossimo episodio ciao a tutti i nostri spettatori